signori buonasera vi presento un'altra creazione bairino radioscorpione si tratta di un alan 48 old con l'indispensabile o meglio 120 canali eco colt roger bip parlascolto aumento di potenza e basta basta così è giusto il minimo ecco qua lo proviamo attenzione canale 45 binario 45 avanti modulatori sentite rino radioscorpione in prove tecniche cambio cambio tutto roger allora vi voglio passare scorpione junior nonché michele radio toro che vuole provare questa radiolina prego michele attenzione canale 45 sentite michele radio toro che se la modula passo bravo michele ottimo saluta tutti gli ascoltatori qua buonasera buon ascolto grazie ciao michele